Il mondo è una unità, si voglia o non si voglia. La socialità è il risultato di una lotta culturale e non solo culturale, è un dato oggettivo o universale, così come non può non essere oggettiva o universale la necessità su cui si innalza l'edificio della libertà. Voglio sperare, conoscendo abbastanza la tua onestà, che tutto si risolve in una bolla di sapone, facendo risultare la tua innocenza e la tua rettitudine. Carissima mamma, non ho più la forza di continuare. Ho scritto altre lettere, ho pensato a tante cose e il non dormire mi ha un po' affaticato. Rassicura tutti, di a tutti che non devono vergognarsi di me e devono essere superiori alla gretta e meschina moralità dei paesi. Vi bacio tutti e a te, cara mamma, un abbraccio e un'infinità di baci. Nino Mio carissimo, ricordi, sono già tanti anni che ci siamo conosciuti. Ci ho pensato ieri perché ho compiuto ieri 31 anni. Ci ho pensato con tanta dolcezza. Certo, non ti ho scritto da tanto tempo e mi sembra che non riuscirei a scriverti senza dirti la verità, che sono stata male. Chi domina non può risolvere la crisi, ma ha il potere di impedire che altri la risolva, cioè ha solo il potere di prolungare la crisi stessa. Non ho più nessun motivo di tornare a casa per le ore dei pasti. Quando verrai a Roma, ricominceremo la nostra vita casalinga. Del resto sai che mi piace occuparmi della casa, non per le faccende in sé, ma mi piace organizzare una vita conforme alle esigenze fisiche del mondo. La sintesi degli elementi costitutivi dell'individualità è individuale, ma essa non si realizza e sviluppa senza un'attività verso l'esterno. Modificatrice dei rapporti esterni, da quelli verso la natura, a quelli verso gli altri uomini, in vari gradi, nelle diverse cerchie sociali in cui vive, fino al rapporto massimo. E abbraccia tutto il genere umano. Perciò si può dire che l'uomo è essenzialmente politico. Poiché l'attività per trasformare e dirigere coscientemente gli altri uomini realizza la sua umanità, la sua natura umana. Perciò si può dire che l'uomo è essenzialmente politico.